Allora presentiamo la prossima formazione così composta, almeno se non c'è niente di errato sul nostro volantino qui dovrebbe essere Stefano Biagioni, chitarra e voce, è dominato Poi abbiamo Fabio Buda al basso, per quanto ricordi di te, la batteria Alessio Tambellini Ricordiamola, siete già venuti, la prima volta, allora c'è il nome del gruppo che somiglia moltissimo ad un altro gruppo che ha partecipato qua Allora ricordiamo un po' i vostri due brani che avete scelto per la manifestazione Un pezzo è Tattoo Lady di Rory Gallagher, un vecchio pezzo degli anni 70 Il nostro pezzo si chiama Mondo dei Shoemakers, lunedì del calzolaio Allora vedo qua che sono cinque anni che sono andati insieme Come va? Il vostro rapporto buono? Sì, ci fermiamo molto fondamentale Intenso solo un altro punto di vista, però vedo che comunque il batterista è a posto Blue, so, better 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 Grazie per la visione 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 Grazie per la visione